eccoci qua ci si prepara per l'entrata in campo delle due squadre asiaco vecchie glorie contrattiene tutti ritorno in campo le squadre stanno entrando in campo e ricordiamo con la maglia numero 6 Alessandro Rigoni le squadre si rispondono in campo per la foto di Rito il capitano dell'asiano Alessandro Rigoni il figlio di grande Peri foto di Rito e pronti per il calcio di Rito ciao Marco ciao Marco, ben arrivato Marco ad assistere la partita abbiamo anche l'assessore Franco Senna l'assessore dello sport di Asiago che tanto fa per cercare di proporre eventi sportivi sempre e continuamente all'asiano pronti a caccia di inizio con Giuliano Deveschi con Alessandro Rigoni che togherà la palla per Giuliano Deveschini fate la punta di vista della partita buon osservatore recupera la palla e il tiene elementi Ernesto Maino allenatore che quest'anno ha vinto il campionato di seconda categoria Corazzura l'anno prossimo allenarà pianezze in prima categoria Pintrante recupera buon Fabio Lucio Presti ha giocato tanti anni nella zia Lucio Presti anche ex del piede negli anni 85 più o meno buon Fabio Lucio Presti Carica palla recupera il piede Clementi e si muola verso la porta l'alte di Clementi 1-0 questo giocatore che ha fatto la serie A udile Vicenza allora visto che c'è il rete da parte del piede dobbiamo fare un incoraggiamento particolare ai giocatori di l'anziano in modo particolare ad uno attenzione 1-2-3 Forza Feli Forza Feli Secondo minuto 1-0 Lucio Presti apertura destro per buon Fabio Fabio alza la testa buon Salvatore Federico Lunghini buon Fabio ballo intercettato dal tiene ballo laterale a favore dell'anziano in tenuta giallo rossa mentre il piede gioca in tenuta rossulera Federico Ross Ros recupera Checo Maino pressione di Bonfausto protegge palla Checo non molla Bonfausto palla di farlo laterale a favore dell'anziano palla di farlo laterale a favore del piede Checo Maino allenatore della Berritti del Bassano già giocatore del Cittadela del Treviso con cui ha fatto la scalata fino alla Serie B con Fabio conservatore Ernesto Maino numero 8 parisotto Ernesto apertura apertura a sinistra palla che esce il palla laterale tiene i portazionali palla laterale risposo di tre decrementi numero 2 Ernesto Maino prende palla alza la testa palla filtrante Ernesto Clementi Checo Maino cross recluta la difesa dell'Asiago Baufabio Federico Federico Unghini recluta Parisotto Checo Maino e parte recluta l'Asiago Baufabio Baufabio Filtrante per Lucio Pesti recluta la difesa del Tiene Parisotto apertura cambio gioco Pizzata di Federico Unghini Giuliano Le Peschini recluta Ernesto Maino Osserva Osserva l'istruzione dei Copani si trottone centralmente il numero 10 Stella Palla Palla che esce rivessa del fuoco a favore dell'Asiago con il portiere con il portiere Davide C'è tanto movimento nella panchina dell'Asiago qualcuno si sta già scaldando L'Osservatore rilancio Lucio Presti mette giù il pallone dei corretti recupero il pallone tiene va un faunsto Palla di nuovo il portiere Davide, settimo minuto di gioco, Alessandro, palla a favore dell'Asiano, sulla palla Lucio Presti, ha subito un fallo a Toni Cumico, ha battuto Lucio Presti, Mario Steva, Juan Fausto recluta la palla, Checo Vaino per chiudere, recluta una palla, Parisotto per il tiene, fallo a favore del tiene, Checo Vaino è battuta, Parisotto giro palla per Ernesto, che sale centralmente, filtrante per il numero 9 Clementi. Recluta la difesa dell'Asiano, Fabio, Lucio Presti, Bau Salvatore, Alessandro Legoni, recluta Roni, fate rispettare! Good job! fanno il favore del tiene attertura a destra per Chico Vaino, si ritorna super risotto chico Vaino, si ritorna a destra, misura di toni pubblico, vale laterale vale laterale a favore del tiene a bordo campo Frigo Vincere insieme ad Adriano Sattoni osservano le disposizioni delle due squadre e stanno commentando le fasi di gioco vediamo se Chico Vaino va il cross, la mette sul destro, la sposta su sinistro, cross Ernesto, vediamo se adesso il fronto di sinistro, alto e zero supremaziale a parte del tiene però la partita è bella e viva cambio dell'asiano esce Fideroni Andrea, entra Tracaro Ale che quest'anno dovrà giocare il Serie Dio del 1 fratello di Pippo Tracaro che gioca l'antichampo e che oggi non c'è palla tiene manovra del tiene riesce a chiudere il difeso dell'asiano caccio Vaino con uno del tiene da parte del resto d'attacco il fortile del piede Zanari non vede abbastassino per uso quasi sta prendendo sonno la battuta del calcio all'angolo sta risolto del piede è fatta uscire il cuoco di testa il cuoco di testa e il cuoco di difesa della scala e parla la mano di poca il poppa il poppa il poppa il poppa pare che esce non lo diamo a ruolo del tiene ma che pensi tra 30 anni guardami ma non ti schiervo non ha fatto il stampetto poi non mi ci si porta e non sei mica su ma non mi aveva il gelatore la miniatura la sinistra la sinistra dai 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 chiude l'osservatore va un Fabio l'osservatore parisotto Ale Fraccaro che apre a sinistra la palla del scifallo laterale è entrato anche Stella stella Alessio Alessandro fa la sinistra di Parisopo recuta la Davide Rodeghiero Stella Fraccaro Ali conservatore Federico Lunghini impeccato sulla destra uno contro uno bravo bellissima giocata di Federico e Traversa meritava i gol e il figlio il figlio di Lunghini Gianluca quasi va a segnare Lunghini padre prolunghini figlio quasi viene i gol bravi vai Lucio Presti Checomaino parisotto Lucio Presti ha i fans qui Checomaino recupera la palla in pressione con Fausto ed esce il tiene palla in palla laterale recupera la palla il tiene e si riparte Ernesto Maio testa alta Apertura Toto Lundon filtrante recupera è entrato che ritiene anche il bomber da Vicenza l'ex bomber da Vicenza Toto Lundon Apertura a destra palla buona Gianluca Bellissimo il cross di Gianluca questa volta sono cambiati gli interpreti Gianluca il cross per Federico che non riesce fallo di buon salvatore Marisotto Maio a resto Apertura di Maio a sinistra per il numero 2 del fine ovviamente Ernesto filtrante fa la che esce vado a andare bevi Giallo bevi Giallo bevi Giallo c'è il tuo campo da Serie A per il piede cioè il attacco da Serie A Clementi Toto Lundon Gianluca recupera palla Ernesto Maino Gianluca Gianluca giovane veloce chiude buone lei nasce e in un'altra attivamento bravi maio abbiamo tutti sempre sopra fine, nonostante l'età, tiro di Alessandro fuori, parte il portiere del portiere, apriti René. Checo Maino, il play, pallo di Gianluca Lunghini, sempre sottuoso Ernesto Maino, non gioca più, ma è ancora un signor giocatore. Vau Fabio, che sembra un ventenne, Lucio Presti, Vau Fabio, Ale, Ale Fracano, giocato su Federico Lunghini, Ale Fracano, Nicola Lunghini, palo ai 20 metri, posizione sul centro-destra, parola della Siamo, sulla palla Lucio Presti e sicuramente deve tirare lui. Sulla palla che Federico Lunghini. Fabio, allargati Fabio, allargati. Sulla palla Federico Lunghini. respinge la barriera ecco il bomba che sale filtrato per Clementi non lo fa più chiude ma Clementi riesce siamo a che ci hanno preso un minuto un vantaggio il tiene Paolo Salvatore Clementi produttori pubblico fuori, palla fuori bellissimo il cross di Clementi però il compagno non riesce a chiudere l'azione palla fuori di Clementi ha recluto la palla a pari del rotechiero con un rimesso del fumo Paolo Salvatore Ernesto Maino mette giù la palla Gianluca Gianluca Pagliari Paolo Lotevara Paolo Naziano ah i grabi torti schiai posizionatori a favore del piene Ernesto sulla palla a pari sotto apertura a sinistra Il piede è disposto con 4-3-3 per il suo mister tirato dal Carbonale. Palla filtrante, Giuliano ha trovato il beccato centrale e non è riuscito, Checomaino con la palla. Palla sopra destra per l'inserimento di Clementi, uno contro uno con Toni Cumico. Calcio di rigolo a favore del piede. L'azione personale riesce... Scusa la marcatura di Toni Cumico che lo spende. Rigore detto. Alla battuta di Robert Cotto Rondon. Ricorsa lunga. Chi era raggio in sinistro, ma sicuramente chi era raggio. Palla alla sinistra del frontiere. Avete di Conto Rondon. Un applauso a Toto Rondon degli anni 90 del Vicenza. Attualmente allenatore a Schio. Settore giovanile. Riparte la Siamo. Federico Lunghini per Lucio Presti. Apertura a destra per Gianluca. Sale Gianluca Lunghini. Rientra con il sinistro. Apre sinistra per Giuliano Frison. La palla esce controllata da Checomaino. Siamo al ventitreesimo minuto. Sette minuti alla fine della partita. Parisotto. Nuovamente tiene l'attacco. Balu Fabio recupera la palla. Ritorna a palla il portiere Davide Rodeghiero. E si sale a sinistra con Lucio Presti. Tracamo Ale. Apertura a destra per Balu Fabio. Si fa vedere Balu Fausto. Giro a destra. Bellissima giocata. Gianluca. Guida la palla però esce sul fondo. Riparte per il tiene. Il portiere Ferrari. Palla Ernesto Aino. Che sale sulla corsia centrale. Palla a Totorundó. Totorundó. Apertura a sinistra. Dalla Totorundó in puntata centrale. Bellissimo! Bellissimo! Grazie a tutti. Riparte l'Asiago. Palla per Gianluca Lunghini che rientra con il sinistro. Apre sinistro, recupera il tiene. Palla di fallo laterale a favore dell'Asiago. Alia Placano alza la testa, filtrante per Giuliano Frison, controlla anche Comaino. Palla sul fondo, riparte il tiene con il portiere Zanani. E' solo sul portone, scende Parisotto. Parisotto apre a destra. Corri gioco, riparte l'Asiago, Lucio Presti. Paolo Fausto. Padra Fuson, Andrea. Grazie a tutti. Nicola Lunghini, fuori di un niente. Pozzinari per favorare. Si propone per questo. Recupa la palla Gianluca. Solito lento. Doppio passo. Bravissimo. Grande cambio gioco per Tilaroni e Andrea. La velocità non è più bella della nuova volta. L'assisterna perfetto di Luca. Zanani, che apre a sinistra. Borrele. Pressione di Rameschini. Ernesto Maino, sulla palla. Torna con il portiere Zanani per Chico Maino. Per la palla nel piede. Parisotto. Ernesto Maino. Il play filtrante per la punta. Recupera la difesa avversale come un salvatore. Sale Gianluca Lunghini. Rientro con il sinistro. Passaggio centrale per Ale. Uno, due con Nicola. Recupera Ernesto Maino. Ed esce in maniera assolutuosa. Rilancia immediatamente il cutupiede all'unione. Curse una clarita di partenza. Ricopera Laziano. Ricopera Laziano. Va un passo. Ricola Lunghini, filtrante. Per Gianluca non passa. Recupera il fine. Va un Fabio per Lucio Presti. Dai vediamo se Laziano riesce ad accorciare. Lucio sale con la palla. Nicola, Nicola, Spala Zennari, la ritiene Ultimi tre minuti Giuliano, Meschini, Nicola Nicola rientra Riprende il palisotto Recupera la stella Fuori, vanno la tavola a favore del Tieri Il Presidente delle Carbonari insieme a Gungu Seragodio Per la vittoria del Tieri in questa partita Esce Ernesto Maino Recupera il rapino a Roli Fittante Checo Maino chiude il portiere Zennari Impresa bassa E si riparte Ernesto Maino Apertura a sinistra Sale e tiene su accursione a sinistra Il numero 7 Parisotto Apertura a destra Per il numero 10 Clementi, Clementi Chiude la difesa dell'Asiano Riparte Recupera la prova in mezzo a campo Come sempre Ernesto Apertura a sinistra Ernesto fate cambiare Grazie 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 Non era facile In mezzo all'esciata La prossima partita scendono in campo La squadra dell'Ipa contro la squadra dell'Asiano Siamo a un minuto dalla fine Ultimo minuto Capitano Feguero Andrea Pilaroli Alessandro Fraccaro Testa alta Sale Pala al piede Nicola Alessandro Fraccaro Nicola Lunghini Giuliano Frisone Alessandro Fraccaro Testa alta Siamo al limite Nicola Lunghini Cambio gioco Gianluca Pala che esce Ultimo minuto E Ernesto Maino Apertura a destra Direttamente verso le panchine E finisce la partita Tiene il finale Contro il Cittadella Adesso per il terzo quarto posto Si affronteranno l'Asiano Contro 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 l'Ipa Polizia Penitenziaria Un applauso alle due squadre Per l'impegno profuso E per le belle azioni Che si sono viste in questi 30 minuti